Testa reclinata a sinistra, sordità parziale, orecchio destro. Primo punto d'attacco. Due, gola, paralizzo le corde vocali, spengo l'urdo. Tre, grosso bevitore, costole fluttuanti nel fegato. Quattro, trascina la gamba sinistra, pugno alla rotula. Prognosi finale, cosciente in 90 secondi, combattivo in 15 minuti, recupero totale delle facoltà, improbabile. Oh 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 oh!